Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Una ricostruzione che non c'è o che è solo parziale è quella del Conservatorio Pergolesi di Fermo che dal sisma del 2016 all'ala dei fiati, inagibile. Ma la consulta degli studenti presieduta da Simone Tenerelli non ci sta più ed è uscita con un comunicato stampa contro la provincia di Fermo. È responsabile dell'edificio che ha ultimato un mese fa il rifacimento del tetto, ma non ha mai messo mano ai due piani dell'ala che ospitava gli strumenti a fiato. Noi dalla consulta, insieme a tutta la direzione e al Presidente del Conservatorio cerchiamo di smuovere gli enti che devono ricostruire il piano fiati e il piano sottostante. Per ora abbiamo inviato una lettera a tutti i comunicati stampa e poi lunedì andremo in radio per denunciare, tra virgolette, questa situazione. È uno stato di abbandono che quanto pesa su voi studenti? Pesa assai perché più che altro per il fatto del diritto allo studio. Noi ci appelliamo molto a quello, anche perché a differenza delle università noi abbiamo bisogno di esercitazione e di suonare tanto e molti studenti fuori sede a casa questo non possono farlo, o perché disturba il vicinato, oppure chi abita lo studentato perché è proprio impossibile studiare lì. Quindi noi cerchiamo appunto di... cioè speriamo che questi lavori finiscano il prima possibile e finiscano soprattutto prima dell'inizio del nuovo anno accademico con l'apertura di nuove classi e speriamo che possiamo tornare a fare pure le lezioni teoriche in presenza. Perché le lezioni teoriche le state continuando a fare in DAD proprio per la mancanza di spazi. Esatto, continuiamo anche dopo il Covid, continuiamo a fare le lezioni teoriche online e questo crea pure una poca comunione tra di noi, anche perché prima con tutte le lezioni teoriche, ad esempio Storia della Musica, che è una classe molto ampia, pure la... cioè si viveva di più il conservatorio, lo spirito universitario, così lo possiamo chiamare, e oggi con tutte queste lezioni teoriche questo spirito manca, viene a mancare. Quindi noi speriamo di riuscire all'anno prossimo a far iniziare queste lezioni in presenza.